lo steam via rotabile via sopra rotabile sopra via rotabile sotto rotabile questa non è via sotto rotabile via su borgo quella la ma che ora è aspetti fammi un secondo sono le 5 meno 10 del 30 di luglio facciamo stupiti poi a casa anzi passi da casa che devi prenderti il dvd ma perché non lo puoi portare dopo quando si pigro facciamo una serie facciamo una selfie e dai facciamo una serie questa è la strada salute faccio caldo via nuova motor e oggi faccio caldo e faccio caldo assai questa è la strada per arrivare al paese arriviamo in un punto in cui converge la vista verso il paese risentiamo via rotabile si stava meglio pure perché no hai augurato che signifo soffio di vento fai la iaura facciamo la iaura insieme io voglio chiedere scusa a tutti coloro che guardano sti video perché veramente sembra veramente stupido da mia saluto da mia andosta noi già da mia damiano cascina da passolo una banda la banda abbiamo e questa allora il guardo mi spingi fuori strada ma io fuori strada allora adesso il guardo prima panchina proprio che bello questo è proprio il cartello del paese dove stai proprio il paese lo so quando facciamo un video di chiusura ti ricordo del docu selfie bellissimo l'anno scorso l'anno scorso vado a vedere pure voi il primo docu selfie al mondo non esiste abbiamo fatto noi abbiamo fatto noi qua abbiamo andato e città e? e città 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 ogni video dovrà avere una iaura una iaura dei video allora qui è il campo sante ma a noi spero che in questo periodo cioè che spero che per un po' non dovrebbe servirci spero che non debba servirci tu quindi dite che la fine è andata la settimana prossima io vengo si aspetta aspetta vedi che bello il paese nostro vedi sinistra vedi il cartello andiamo a sinistra quindi verso il paese si e avessi veni la settimana prossima perché avessi? perché no dipende da come stai a lavoro tu dite che abbiamo germe avessi avessi sembra avessi perché prima fa lo telegiornale ci sono incontri più avanti però si viene ma io lo faccio vedere la notte a fa lui non lo faccio non lo faccio il campano il campano perché sarà la messa forse oggi è domenica oggi è domenica è solo 5 la messa allora amiamo la messa da qua mi ha raffinato la chiesa aspetta facciamo vedere la chiesa la chiesa sta là il campano e quindi ora vai a casa chi vuoi salutare vuoi salutare qualcuno facciamo che saluti allora fammi pensare un po' io voglio salutare io voglio salutare per esempio da parecchi anni che non ci vengono mi ha avuto però prima ci volemmo bene assai ma che mi ha desiderio a lui frate o Antoni o Antoni una vita proprio andò ma ci sta lupando guarda ho visto è sparuto completamente poi se c'è il suo video questo video perché si vede questo video mettete in contatto con me che cazzo abbiamo tanti amici è sparuto è sparuto proprio è sparuto poi mi ha salutato sai chi a Fabio Mirabello Mimmo Savino Fabio Mirabello che sta a Helsinki in Finlandia anzi io mo chiudo stacco facciamo un video solo di saluti facciamo da qua la fondata tutto quello che ci viene a mente va boh ma è quello che aveva dice già oggi ciao